A che te serviva? Me lo spieghi? A spaccare Cosa? Siamo a 10 secondi A scrivania Che non si può spaccare TANTO Attivazione jammer La squadra d'attacco ha trovato una bomba Comunque, io dovevo fare da diversivo per Mike Perché Mike era dall'altra parte Diversivo adesso che cazzo Era Dark, Dark, levati Oh, donna santa, madonna L'hai fatto? Chi è che ha visto OneTab? Era Glaz? No, non lo so Non so molto cosa ti fa Vabbè, che cazzo ne so Mica mi ha sparato quello Io ho dato tempo di vivere Glaz era, occhio, mi hanno toccato T'hanno toccato Mi hanno toccato, si C'era la regula No, no, dietro finestra uno in fondo C'era un Vabbè, io ho barrico Oh, no, si qua ha aperto Vabbè, io ho barrico Quale finestra? Ah, abbandonato, regà Nel dubbio ho barrico Finestra, finestra Finestra, aperti io Occhio, Ash Vabbè, perché l'ho oneTabal L'ho fatto vergogna Della mia stessa vita Ash qui No, 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 qui, raga, qui Va, va, Jager, Jager, Jager Molto carecchio No, mi fa Twitch, mi fa Twitch Mi fa Twitch Mi metto in mezzo, mi metto in mezzo Mi spesso, cazzo di Twitch Dai, dai, che fa in serio Aspetta No, ti ti killa, basta Ti killala Ultimo attaccante di marcolina Guardate, gara Guardate, gara Oh, guardate chi è primo, regà, ma è vero Ma è vero Guardalo, cosa Ma è vero Ma è vero Tato, che C'è che va di hack Vedi se c'è quello è lit Guardate Guardate, tutti è lit Guardate, guardate Tutti è lit Tra le pubbili E Matteo Cazzuto, con la skin leggendaria Attenzione Ma è che guarda che io non sono detto Con Matteo Te che l'ho trovato Ti confermo io Ora se la merita questa volta io Ti confermo io No, questo qua Te lo sai perché io t'ho fatto uri Questa qua è la vendetta Perché te In quella rank tu ti aveva tirato malchiri E te me l'hai ammazzata E me l'hai pure Quindi questa è vendetta Vendetta vera 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 Sì sì Meno male che tu fai Questa cosa Questa cosa Tanto adesso sal... Oddio Ma c'è chi si chi si chiama tre palgar Tanto adesso salta il turno Raga Ce l'ho lasciata che si chiama tre palgar Eccola confine Eccola confine In confine non mi dovete fare niente Perché questa è la miglior mappa E' schifo Oh ma Oh raga c'è la scelta Trafalgar Ragazzi c'ho la scelta Trafalgar Non mi potete tocca Avete capito? Ma che cazzo sei di macchia sui filo Oh te te Oh te Vendetta 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 Oh coglione Come fare troppo ridere Oh coglione Tatcher Tulltwitch Lascia sto Ma che tatcher Inutile Fulmine Tulltwitch 2019 Comprami delle Eccum Cambia live Scrivi Fulmine Tulltwitch Oh e Oh Matteo Te devo scrivere una cosa in chat Si LOL Sono così intimi Dove sei le zone per trovare un bomba Si Oh siete così intimi Oh Stupido cane Devo sciumpare Ti ammazzo Poi mi vede di aiutare Ho fatto la rima Ammazzo di fratelli Ma ragazzi Stupido cane Stupido cane Eh dimmi Sto pensando a leone e stiamo sui Devo essere di fischer Mando solo pendito Penso di si Mike vai avanti Vai avanti E io spotto Ma è che non uscire Io anch'io mentre Dai bravo Però dovete andare a spotare Che cazzo ti frega Stupore di dio No No Zio no Non lo farò Perché no Forse troppo Sarebbe troppo bello Lo so Però non lo vedremo Abbiamo il disinnescatore La missione è trovare disinnescare una bomba Non hai più il disinnescatore Che comunque Tatcher è l'unico sfigato Che non c'ha l'SMG Che cazzo Sa stai fulmine che gira e si fai droni e le campi di droni Si gira e si fai droni Si gira e si fai droni C'è stato Matteo Mike Pare che io a Matti Ah Matti Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma regami con droni polari Anche tu? Mi è stato di merda Giorgiato di merda Giorgio e mi hai approfondito Ma ti tapo qua E poi ci hai dai c'è la linea lettera c'è un po' non può mettere dai mike però no ragazzi ti d'inchiere tra giuro basta vabbè per la squadra alleata il cuore fuori ma dove vai vuoi vari ricorre ma chi è ferma roma la carta che ho avuto riflessi di poter vent'anni dopo la spaccala ma ecco che palle o da benedetto e vai a pigliarti un dildo e mi faccia ma prendilo te ma prendilo coglione di merda ti schiaffeggio col cazzo ma che schiaffeggi lo vio io qualcuno vuole benedetto lo vio io oh gamin stavo facendo l'esio se vuoi lo vio io eh se ho capito che coglioni io sono morto per colpe aspettai come gamine e bravi io più jager perchè ormai con jager adesso faccio rimorire anche con la parte che c'è la doc è una pezza di mosca vedete le borre non me ne sono accorto se hai zompato un se hai zompato un turno ma da che jager jager cesso mi aveva davvero a una mosca no do 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 no ducca raga adesso io mi metto a darmi uno scotto senza aereo non male che ho detto non ammarrigato lui cosa va a 10 secondi oh è italiano 5 secondi la squadra d'attacco ha trovato una bomba una zona controllata dal nemico lascia la grande fulmine bravo non serva a niente qua serva assolutamente a niente motolo apro io morto amato la nonna se lo aprivo occhio capca eh si capcana il nemico ti scoprirà se rimani con la zona permitico 0 2 ma chi è quel coglione che mi aprò la porta ma a casa tua dici che è quello che mi aprò porto non è un gioco a te se rimani in questa zona il nemico ti scoprirà raga da dietro da dietro raga detto ci penso io ma è che c'è il mira fermo non ti capisco non serva ma vedete ne vuoi vedere che c'è non c'è da te mai eh ma il nemico da voi guarda pure il ma in questa zona da dove aprono pure fermo ma dietro da dietro a b iiiiii stavo per shottare un uomo ve lo dico ma c'è blackport qua in ufficio hanno spaccato eh dillo prima no hanno spaccato con thermite eh ho ammazzato ash ma c'è quà c'è thermite ma te lo sai che non ammazzarai mai disinnescatore in campo disinnescatore individuale no c'è il mare michael oddio 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 hai visto mattè defusa mattè defusa 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 mettete così copitemi finestra ultimo nemico ne matto disinnescatore neutralizzato dagli alleati l'altro stava colpore l'altro stava colpore raga c'è san matteo che gli ha fatto il giro a thermite ma dopo tipo thermite non si è accorto tipo Matteo che accontellava a caso non si è accorto non si è accorto poi c'è Matteo poi c'è Matteo che accontellava a caso e non lo beccava è andato in là e l'ha accontellato che bello e in tutto questo thermite non si è accorto della sua morte non si è accorto che io stavo l'accanto tipo c'è guardava mike e guardavo thermite che bello no io più capitavo perchè copyright ce l'hanno la canzone dell'heel pump ah e dovrebbe resa sta canzone per youtube ah e te metti le canzoni su youtube che hanno il copyright certo perchè no no aspetta io io capi come si chiama jonathan come si chiama jonathan come si chiama jonathan e quindi no no secondo me si chiama santiago c'è sarebbero un po' figo cioè sarebbero un po' figo c'è un stampanino perchè ne so tipo eh oppure americano direttamente perchè noi stiamo a pensare i nomi brasiliani ma secondo me si chiama 5 secondi all'inserimento non è vero non è vero è anche il proprio posto così anche io ma se non posso andare avanti alibi e mi fa avanzare cioè cambia per il lavoro lo vado sopra eh mira là fu mi rimane e l'ha mirato cosi si tanto esce da là dito mi spugnare ecco occhio da sopra no mike ma perchè sei andato lì dietro qui no ok così vedo anche chi è s**tto bitch c'è uno dentro uno solo dentro ma te entra coso? no si hanno scoperto ma te entra oh è il bono matteo entra porco dio dov'è? oh ma che cazzo ma lol l'hai visto? matteo entra porco dov'è? a sinistra porca puttana face papa yolk da me vabbè a sinistra piccola vização allora valutare tutti quanti non senza testa costruite hai vado ma vado ci Is trek comunque ragazzi ci possa dire uscite 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 che cazzo state lì uscite il report d'herba è di disegno da qui Mike c'è un'ottotitica, non te l'ho ammazzato perchè ammazzà ecco ma se io li ho preferato lui non è morto ma te tiragli lev ahhh credo ma te l'ho uscita missione d'attacco riuscita devi tirare un toucher così li ammazzavi col toucher quello che io sovrdevo ti immagini in testa un toucherone la ruscia dark mamma mia se fa 1 3 che schifo mamma mamma mia che schifo mamma infatti si proprio ma faccio faccio proprio schifo se fa pena sto sera dark devi fa cardia per forza vabbè si cazzo è sempre meglio che bambino sportelli per l'ultimo io non ci sembrei mai nella vita ma andiamo al work office no no non bagno sportelli sopra stanza cantiere stanza cantiere no ragazzi ho la skin travalgare per le smg ma qua non c'è tipo sopra comunque io c'è io smiro ma questi smirano più di me ma questo qua è un caso a parte il doc è entrato nella stanza io stavo dentro ha curato un'altra la migliore il terzo il posto l'epo del bambino il terzo il terzo guarda quanto è bella star il volo il volo il volo il volo lo il 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 inizio il E' la skin travalgar E' la skin travalgar Ah Dio Dovevi vedere io mi mettevo davanti e non passava nessuno No Mike, no Mike, no Mike, è bombe Ah giusto Mancano 10 secondi Non ho accorto adesso ma porco Chi è? Chi è? Dark? Vai 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 di bomba va Dark Vai di bomba Guardate che bomba, levate levate da cazzo Levate da cazzo Oh sto coglione Botole rega Dark Fatemi di chi lo io mamma mia Giavate Il nemico ti scopriati rimane in questa zona E' cazzo Io c'ho questa Vediamo da lontano che sciogliete più Tu? No, chi? Da vicino No Dark io devo passare Qui rega Dove? Gaccia Dronano Grande Dark Cioè Ash è invisibile fuori da Vinelta Ah è invisibile Eh io non l'ho vista Ma hai capito? E' invisibile Hai capito? Mike Ma per cui stai spaccati quel pavimento E' invisibile vero è invisibile Com'è invisibile? E' nucker Boll Ragazzi non vedo il cazzo Ragazzi non vedo il cazzo Vabbè poco visibile non puscialla vatte E' poco visibile e' visibile E' visibile E' nucker C'è sta macchie che sogno Che cazzo fa e' fk Trappi Purture lo senti Maverick Che sta una buca dietro Trappi per andare Eh Terega Tereee 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 Qui giù sopra In di furbia ce ne vengono Ragazzi più ovecchino Ma che hai note più solo Qui giù sopra da te Mike No te la tolci Vedi vedi che caccia visibile dal concito un po' l'esercizio ma se la cazzo trattato a livello sto cazzo la stessa perché sempre di purtroppo il film tipo dei bambini dove non dicono parolacce valedizione forno a me c patate chilo quel maialino io raga io non bestemmio viva Gesù io non bestemmio ma è che io non bestemmio mai ma è che io non bestemmio mai ma è che ma siete quello che bestemmio ma siete un erede di Mosconi ma io non bestemmio e poi evitare di dire nome e cognome in live stupido ma te mi cambi col nome mio tu sei stupido e mai quello non è il nome suo scusa ma che poi siamo in live stupido si che siamo in live stupido e che targ c'è la vita segreta attenzione come è che non ci dice neanche il nome Jonathan stai z che spaccio di trasmissione stupido spunto l'assalto in campo ah la mia peccato ormai perché parli non è che ciò no oh oddio ah 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 pulmine che cazzo fa io stavo fuciando pulmine che cazzo fa Mike ma mi ha atternato lei o caggito? No, io l'ho canterrato, però ho fatto... ...mello dietro. Io non sono fatto senza parole. Io... ...Mira sta in... Come si chiama? Dov'è? E' in curo suo. In cantiere, dico. Guarda che è chiude. No, non c'è nessuno, andate a plantare. No, è chiude. Io ho paura. No, c'è tu, c'è sotto di te con chiude. Ma che fuggi? No, no, no. Coglione. Sta lì dentro. Esatto, sta qua dentro. Occhio. Vai a plantare. Vai a plantare. Oh, vai a plantare. Quanto io ho sparato? Guarda, devo dire, devo dire, devo dire. Ma planta! Quanta lì, bravo. Ditti che deve sentire. Tantigli lo Salute. Ma voglio dire, non lo ha, non lo ha, non lo ha, non lo ha. Siamo in salvo. Un pescatore attivo. Proteggetelo a tutti e i cali. Uff. Vinciti un drone. L'ultimo avrei troppo che pesi ha, non lo ha. Stava l'infod... Oh, la cosa inbileggetela, hai fatto il testo. bello sto drone difensori neocatriati ma che navi ha saltato il drone è sul muro raga prima l'ho colpita tanto che si sarà vista tutta la vita li sento in faccia poi dopo è rimasta viva però l'ho colpita un trickshot ragazzi si trickshot è un colpo morto una molotov depresso vabbè raga noi andiamo in workshop alla wogbor alla wogbor alla wogbor alla wogbor e io non ho ancora sponchillato in questa pappa non ti preoccupare sponchillo ero io no 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 sponchillo io non cagare il cazzo non cagare il cazzo non cagare il cazzo la lesbica ma che cazzo vuoi baldracca la lesbica non cagare il cazzo ma che cazzo pretende da ciacca aaaaaaaaa ma che cazzo che cazzo di musica no ma che la muscia del russi vado a fare botola raga eh trick e track sparacco trick e track che è botola ma devi andare le botanze le botanze le botanze le botanze lo faccio eh va fatti ma che te frega non perchè ne manco l'armatura e ti metto offerta da fonte a cazzo daaa chi è? fulmine perchè mi puoi metto il culo dir giuro l'ha messo il culo sui rucchi e l'ha preso fulmine di tinchillo fulmine 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 bomba localizzata secondo me è un my dark muore ahah come non erano ma via mi scoprirà SMART WA secondo me è unQ muore dopo che è morto c'è nel... oh fulmine ci sono tutti la eh cazzo vado cazzo si è già da scopri 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 oh 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 mai che l'ha ritetto eh ho detto scopri ma perchè sei progetto eh che cazzo ma sono già garantito l'abilità ma che ma sai che è che prendi in giro un pulmin e me lo spieghi che ingenui ciao ciao addio amici addio ci dobbiamo lasciare va bene addio amici addio mike mira la mira ma io ancora mi buscia mira lì ecco c'è il nero c'è la c'è mike un operatore alleato rimasto ecco io scenderei ma mi hanno ammazzato il 3 mi hanno ammazzato perchè mi spottavano dalle ombre di no 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 mike spacca botola scendi mike ma è stato sono più perchè è baricato quella botola quella botola deve essere baricata tutto non ti versi ma quando l'attacco ha piaccato un disinnescatore vicino a una bomba la tiglia l'attacco ma della sua parte lol perchè è importante fare il drone l'avevi visto mike l'importante è fare il drone mike sei scemo che non l'avevi visto cioè c'è stava lui in mezzo alla stanza perché ci vuole e te non l'hai visto non parlare oh coglione io lo scrivo zitta che sei morto come un coglione davvero 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 ti sei fatto eh no dillo 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 adesso lo dici ti sei fatto sponchillare se sei fatto sponchillare ahahah che cazzo da ridere niente coglione cazzo figlio eh ma che vuoi a lesbica a lesbica ci ha fatto i sordi a lesbica chi piglia regà un bel termite bel maverick proprio lui chi è nessuno no nessuno mike maverick non utilizza più ma che cazzo dici non lo sai più utilizza l'ho utilizzato tutt'oggi vabbè però tipo gli ultimi giorni l'ho utilizzato no si una volta al giorno una volta però ti ho utilizzato ma sempre l'importante che l'utilizzo una volta al giorno no era che invece di una mela al giorno una maverick al giorno no maverick al giorno no maverick al giorno no maverick al giorno uuuu 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 oddio lo sai che sembra hai visto il compressore quando si carica uuuu 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 e' un diistile ma come che è un diistile e' completamente utilista uuuu 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 non c'è bessemia, chiedi scusa a Dio, è la madonna abbiamo il discescatore, uova individuata, dov'è raggiungerla e bisogna in casa ma lo sai che cambia tu, hai appena ben segnale no, io ho detto, non bessemiare Dio la malone di Cristo eh, eh beh non si nomina il nome di Cristo in vado anch'ium, 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 anch'ium gli ho detto Cristo, non niente, non Dio Pum, eh, c'è così che morimo tutti ok, c'è uuuu, attenzione ma dillo prima che c'è ma ti c'è una fontana, eh Dark, vieni dietro lo confermo, daga non si, ma confermalo Mike, confermalo, fermo Mike, Mike, Mike ah dai, confermalo ci sono capisco okay valla confermalo diametra aprendo du, vaiavier confermalo, confermalo dai raga guarda giunta oh goddio, confermalo, dijoame confermalo tacacacadac confermalo, porco di un dio dai no, polmine confermalo, confermalo confermalo polmine, pol. Miline polmine, polmine... Vabbè tanto son morto! Tanto son morto! Tanto son morto! Fu mi ha anticappato! Fu mi ha anticappato! Fu mi ha anticappato! Fu mi ha anticappato! Fu un operatore alleato è rimasto! Oh hacker il cellulare! 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 Dai dai! Ho 20 ore a salvarmi! Mamma mia! Mi corri! Perché corri! Che coglioni! Guardate le cam! Guardate le cam! Oh regale! Belle cam di Valkyrie! Qua c'è sta! Guarda qua! Guarda! Mira sta dietro al mira Ma che bello sciogli in lingua vero? Esatto Mira su chi al mira? Qua dentro c'è qualcuno Dove sei? Fulmine vai! Cioè prima è che un meleva mezza vita e poi dopo me fate pure morir lì per terra ma andate tutti a fanculo Mamma mia! Guarda è come un fulmine Vabbè Tanto può morire fuori! Fuori dietro al mira! Che giocatore ragazzi! Quadro ad attacco è eliminata! I don't know Perché c'era tocca è tipo tutto fermo! Tu coglione! Lo muove confermo io! Colpo in testa per uno! Ecco così se vanno per dieci giorni! Ma che cazzo per me! Intanto mi sono rispetticato! Io non ti ho confermato! Io ti ho lasciato la morire! C'ho capito! Tu sei un coglione! C'era la smoke! Vedi mi salvai e vinciamo la ranker! C'è la ranker! Ciao! Ciao! ScatOO C'è la mia.. Tu fa un culo mo ti inchilo eh che mo' elccario io! Ci coglione è che mo' elccario io! Che cazzo vuoi creare? No ti inchilo mai che elccario io aci! Che cazzo vuoi fare? No ti inchilo mai che elccario io aci! Cosa sempre ripeto ragazzi? Che ti sei morto come coglione perché non mi sei venuto a conferma? Mai come temperatura 56 è giusto? Sì 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 non c'è aspetto ma becciò sport tu e sapere a quando c'è e ventole e ventole con le donne per la scheda 100 un giro la tua maic 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 maia to parlare la chiesa o questo parlando di un'evere ovviamente c'è più mamma non si sente tanto non sento le ventole è capito ma cazzo fare a avere così tempore basso con quello sto bloc dipende che sto a camera aspetta io lo sto facendo spottare la bomba utilizza core temp uso quello adm quello da prevedere si chiama proprio core temp e che modo sbrigare ragazzi mi insegnate da salire sopra qua no perchè non c'è il computer aspetta aspetta non si può non si può non c'è la guarda oh levate male di caso ma chi è che mi ha spostato per la porta il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona e anche un mucco la porta l'hanno spaccato cos'è 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 nessuno parla mo' no non parla dove hanno smoccato scusate ah qui ok sembra qua anche no lo sapete che camera ha l'unica due abilità grande po' cos'è ma qua è tutto spaccato è stato difficile eliminare il tuo collega oh scusa dove stavo chi là oh ultimo attaccante rimasto in vita è così che tu d'arco morì non ci credo mi ho ammazzato ora non è scordata d khd victim edborne con famoso vincente contenuti s trattato per 13 soprattutto da uno e così non ti confermò a post passi non vanno in bagno handicappati secondo me vanno a funcura io sono qualcuno di me ma sopra se vanno in bagno grazie che ti vuoi fumare io l'ho aiutato io per cui e io per la voce roba mirovo come vizio un uomo ma non condizioni ha trovato una bomba ok la prenderà come si così ragazzi stanno in cantiera la proposta la mia cosa è che c'è il vizio delle sigarette poi la voce rauca ma io sono i castelli il vizio del figlio di tosola un'alberto e quella di tua madre che è più bella matura il mio lavoro è più consumato per osia 5 secondi all'inserimento 1 ma di vero ma te in tot non so che far il barco giochi uuuu xd 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 oh ma te ma che era quella cosa che ti trovargare ti ha sparato nel parale che era quella cosa? tipo qual era tipo che ti trovargare ti ha sparato nel parale tipo ah è il mandrillo nel parale eppure cascava l'ultubra ma te andrà a far gare chifo ma tipo il mandrillo tipo ha bevuto poco mandrillo? ha bevuto poco beh no a terra da terra lascia 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 ma puntana no non sarei venuta rubata te lo giuro no in realtà era mia me l'ha rubata ah sta sopra sta sopra e fu me l'ha ucciso che è sta sopra? non sta di lato uno non sta in io guardo io ho bloccato le cammi che le guarda? valkyria 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 sta in no non sta dentro da fuori e che ultate chiama dove sta il planta coglione planta sto cazzo del picco culo valkyria 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 grazie a valkyria attenzione capatré c'è mai che perfiù c'è mai che ho fatto un cazzo i suoi tipi trattato il caso di giro la foto di giro in giro in giro in giro in giro in giro il titolo per me per il governo di che inanzi per me come avete fatto mori così 10 oregano 20 punti del 204 dagli con la città spaventosa io devo dire che mi la punti fa amore davvero che grandi 80 ma che cazzo stai il giro tantamira ieri il sito poi c'è del 110 mila spedita ma questa settimana fa avevo 150.000 la sole nero per la rosa faccio ciò l'amore l'arte perché c'è bravo il fatto che ho trovato la città dove il comandolo chius apropa ma è ancora che si sta sotto l'alberta il video per esempio il video spettaccio vado a farmi io sto vedendo è tanto roba credi che è bello che tutto vuole appoggiare la sport crazy crazy che fai ti stavi segando bene da quando ti avevo cliccato e insomma dite qualcosa crazy perchè startate no non ho startate ciao ragazzi io ne vado i 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